No, lei, ma cazzo! Ma perché che non l'ho toccata? Cioè... Appunto, pensavo ad un cazzo, quindi io sono andato lungo. Eh, per... No! Perché mi spingi a me? Ma chi t'ha spinto? Ma scusami! Ma io sono pato via! Ok, ok, ci siamo, ok. È partito. Siamo qui su Rocket League. Ci facciamo male come la Serie A Premier League. Boh, che sono insieme, Inghilterra, Italia. Non ti sei mai regolato. Tu sei una... Non mi viene la rima. Uuuuh, batterà. Puoi te non cercando la partita? Siamo su Rocket League e stiamo cercando una partita. Esatto. Perché dopo l'ultima partita che abbiamo visto. Bunque è bella, eh. Ciao. Bella. Un piacere. Siamo sempre qua, siamo noi, siamo sempre fatti di Maria. E niente, abbiamo trovato questa partita perché la partita scorsa abbiamo fatto una partita non male e una classificata. Scusate un attimo. Vai. Ecco. Guardate, mi fa gol dall'altra parte. Sì, come so. Mi so scordare di tasto. Non l'avete visto l'inizio perché c'è stata un'interruzione sul telefono. Grande! Grande! No! Ma vai, ci penso io. Oddio! Oddio! No! Tranquillo! No! Ma che cazzo faccio? No! No! Grande! Mamma mia. Guarda che assist che ti ho fatto. La prendo! Mamma mia! Oddio! Vai, 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 vai. Passamela! Passamela! No! Lei, ma cazzo! Ma perché non l'ho toccata? Appunto, pensavo la toccassi, quindi io sono andato lungo. Che cazzo! Le balla al volo, non le prendo proprio. L'ho visto, sono un po' tutti e tu. Ma comunque stiamo giando. Abbiamo venuto di fare una partita non classificata perché quelle classificate ci hanno fatto il culo. Mamma mia che ho tolto! Palla allontanata, vedi? Io non sono riuscito a mandarla. Del là! Del là! Sono finito! Mamma mia! Aspetta. Aspetta. Arrivo da dietro, arrivo. Vai, 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 è tua. Vai, è tua. E lo faccio! Che assist? 1-0. Darryl c'è. Darryl c'è. Hai rischiato anche di metterla fuori, ma Darryl c'è. Vedi, ho rischiato di metterla fuori, però va bene. L'hai fatto! L'hai fatto! L'hai fatto! Subito 2-0. Eh, ci siamo sbloccati, eh. Attenzione, ci sarà un altro gol? No. Forse sì. Grande! Vincito dal tavolino, che bello! Vinciamo noi, siamo talmente forti che vinciamo al tavolino. E siamo subito pronti per un'altra partita. Partiti! Il premio! Di Monza! Puttana! Mettila a mezzo che ce sto io. Mettila a mezzo che la butto dentro. Precisa, eh. Eh, no! Che cazzo ti parlo d'ha fatto! Perché mi spingi a me? Ma chi ti ha spingi? Ma scusami! Ma io non sono fatto via! Uh! Tranquillo, è tutto calcolato. Tranquillo. Ok, vai, gioca. Grande! Sì! Sì! L'ho fatto! L'ho fatto! Doi, 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 doi! Due a cielo, signori, all'angoletto! Se ogni importa, segniamo il primo e poi il secondo. Guarda il gola all'angoletto, guarda! Mamma! Guarda la rotola, rotola, rotola! Rotola! E si rompe il ginocchio! No! No, liscio male! Porca troia! Ho sbagliato, torri! Puttana! Oh mio Dio! Un altro liscio! Olè! Puttana! 2 a 2! Dai, che l'ho fatto? Che cazzo è? Che cazzo è quello che vuoi impurare? Entra, 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 entra! Riete! 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 Daryl! Sempre lui! La folla si infiamma! Che basta spingermi! Basta! A meno non lisciavi! Ci penso io. Dai, che lo faccio? Lo ruttaccio di tua! Basta spingi a me, però! Basta! Ma io sto davanti, se te che devi guardare, io non te vedo a te, cioè! Dio mio, ho preso una spolarga! Amo in, amo in, amo in, amo in, non ce la fanno! Olè! Olè! Perché a tavolino? Perché hanno si sono ritirati così al primo... Oh, il cappello da stregone! Vabbè, assolutamente io direi subito un'altra partita, è pronto per la rivincita, cioè! Vai, vai, vai! Vai, Paulino, vai, vai! Oh, dove sono due! 3, 2, 1, e si parte! Si va per l'all-in! Vabbia qua la palla! Turbalo, turbalo! Cioè, devi di cose brutte così lo turbalo! Sono merda, stronzo! Nello scudo più grande! Vallege punti! Vai, vai, vai! Oh, l'hai fatto! L'hai fatto! Così semplice? Che ha detto poco? Cioè, è proprio... Easy! Pisi! Squirti easy! Guarda, è un'altra paura! È un'altra, è già ripresa la partita, perché noi siamo... Siamo la Roma! Scusa! Ma che cazzo è! Scusa! Lasciala! Vai! L'hai fatto? 2 a 1 per loro! Squadra, incredibile! Assist! Vedete, vedete! Oh, lascia! Palla al piede, poi... Pam! Qua, comunque, per fare qualcosa più semplice... Spingi tu P-X! Ecco l'è mezzo! Tu, è 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 tu! Corri! Porco il cazzo, ma lo sto scazzando oggi! Ma è saltato sopra! Bono! Oh, ma che è entrata! Ma io penso che andava sul palo! Stavo tranquillo! Bro! non è possibile guardi l'ho lasciato a qua dico vabbè entro sul palo ti rimborso ti rimborso allora al piede azar azar ancora oddio 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 dai entra e lui ole mamma mia tripletta per lui triplet ole e finisce a tavolino un'altra volta niente facciamo troppo paura noi vinciamo le partite a tavolino braura vinciamo le partite a tavolino abbiamo vinto tre a tavolino incredibile fantastico inunitabile ho fatto una tia di meta ma comunque non fa niente perché noi abbiamo vinto tre partite e ci vediamo al prossimo video lasciate like se vi è piaciuto come sempre dai grazie a tutto bella